Non ha dubbi il legale di Aymen Adda Benameur. Le ricerche ed i sopralluoghi dei carabinieri dei vigili del fuoco in località Salettuol sono un atto dovuto da parte della polizia giudiziaria. Quindi trarre da questa ricerca sul Piave elementi sulla credibilità della versione di Fiorindi è assolutamente non giusto, è errato in quanto è solo un'attività dovuta che rientra negli obblighi della polizia giudiziaria. Insomma non crede affatto che esista un secondo coltello e non crede alla versione di Elia Fiorindi che ha sempre sostenuto di aver agito per legittima difesa. Perché gli inquirenti sono andati in quel punto del Piave? Evidentemente avevano dei riscontri tali da attivare le ricerche capillari in quella zona. Beh certo, questo soprattutto anche per i tanti giorni passati dal fatto è chiaro che ci sia stata una segnalazione. Ora non sappiamo, almeno io non lo so, se è una segnalazione nominativa o una segnalazione anonima, se riguarda solo il cellulare o se riguarda anche il presunto coltello fantasma. L'esito delle ricerche sarebbe stato al momento negativo, non sarebbe stato trovato nulla anche se il condizionale è d'obbligo. Dico anche che il fatto che non venga trovato è chiaramente un sintomo e poi vedremo della non veridicità di quanto dice Fiorindi. Ma anche qualora venisse trovato un coltello ci sarebbero molti altri accertamenti da fare. L'omicidio era avvenuto a Varago di Maserata l'11 maggio scorso quando Elia Fiorindi, 18 anni, uccise con due coltellate fatali il 17enne Aymen. Una tragedia che si è consumata dopo una lite per droga. Il luogo dove gli investigatori hanno cercato il cellulare del coltello dista qualche chilometro da dove è avvenuto il delitto. La domanda che tutti si pongono è chi aveva maggior interesse a non far ritrovare il cellulare della vittima e forse anche il secondo coltello. Un quesito che si spera trovi presto una risposta. Elia Fiorindi intanto rimane in carcere.